Dunque, prendo un vecchio computer, una penna USB, una scheda audio e un pinguino. Tutto questo per fare l'analizzatore di spettro che abbiamo visto la volta scorsa. Ci riusciremo? Ma certo! Ehi là, ciao a tutti! Bene, oggi assembliamo il nostro sistema di metering e per prima cosa vediamo il computer. Ormai da diversi anni utilizzo come base per i miei progetti dei computer con processore Intel Q6006, molto datato, circa 2006 stiamo, su schede madre di quell'epoca, preferibilmente Intel, che hanno un'ottima compatibilità con Linux, costano veramente due soldi, se ne trovano in quantità industriale e spesso sono vendute in combo, quindi CPU, scheda madre e RAM, oppure direttamente assemblati. In questo caso ho preso un assemblato Acer Veriton con processore Q6006, come sempre, pagato circa 50 euro qualche anno fa e sono almeno 5 anni che fa il suo sporco lavoro. Su questo tipo di PC ho fatto anche un video a riguardo, visto che fino a pochi anni fa era anche la mia piattaforma per il sistema di produzione e mix. Link in descrizione. Sicuramente computer con processori più nuovi vanno anche bene, come pure Think Client o Raspberry, sui quali tuttavia non ho ancora sperimentato a fondo questo tipo di applicazione. La cosa interessante di questa piattaforma, ed è la cosa che davvero riguarda l'audio, è che all'interno troviamo slot PCI, ormai un po' vecchi, PCI Express e USB. In questo modo possiamo installare diversi tipi di scheda audio. La scelta della scheda audio è fondamentale, in quanto è l'elemento che ci permette di acquisire l'audio sia in modalità analogica che volendo anche in digitale. Nello specifico qui utilizzo una M-Audio Audiofil 2496, che è una scheda audio ragazzi di 20 anni fa. In descrizione vi metto l'articolo di Sound on Sound, quello originale dell'epoca, riguardo questa scheda. Ovviamente questa scheda non è il top per l'acquisizione di segnali analogici, infatti non ha neanche gli ingressi bilanciati, ma ha tre caratteristiche che la rendono perfetta per l'utilizzo, almeno qui nel mio studio. Ha l'ingresso speed if coassiale, ed è il modo in cui ricevo il segnale. Ha il clock che si può sincronizzare con una fonte esterna, proprio tramite speed if. Tutto questo è gestibile dentro Linux, con driver e software integrati molto molto stabili. Dunque su come assemblare un PC pezzo per pezzo e quindi anche la scheda audio c'è una guida facile facile su Tom's Hardware, quindi vi rimando a questo link, lo trovate qua in descrizione. In futuro farò video specifici anche su questo. Quello che invece è importante fare passo passo, e lo faremo insieme, è scegliere il sistema operativo giusto, avviarlo e configurarlo. Il nostro sistema sarà basato su Linux, in particolare Ubuntu Studio è la mia scelta, dato che contiene di default tutto quello di cui abbiamo bisogno. Avvieremo il sistema in modalità live, cioè senza fare l'installazione. Questo è il modo che consiglio per poter testare il nostro hardware. Infatti, come vedremo alla fine, il nostro sistema può essere completamente funzionante senza essere installato. Una volta testato il sistema, possiamo installarlo così da trovarlo sempre configurato come più ci piace e pronto all'uso. Quindi, occhio alla penna USB, per fare i test ci acchiappiamo un bel paio di cuffie e andiamo dentro il nostro computer. Ok, per prima cosa installiamo Ubuntu Studio come sistema operativo per il nostro analizzatore di spettro. Ubuntu è una delle più famose distribuzioni Linux e, in particolare, Ubuntu Studio ha già preconfigurata tutta una serie di software per la produzione audio, video e grafica. Il sito è ubuntustudio.org. La versione attuale è la 22.04, ma noi andiamo ad installare la versione 20.04 di un paio di anni fa, che è la versione su cui ho testato tutto il mio sistema. La versione 22 dovrebbe comunque andar bene, ma al momento non l'ho ancora testata, quindi andiamo sul sicuro con la 20. Per scaricare questa specifica versione andiamo nella wiki di Ubuntu, dove troviamo l'archivio delle release. Vi metto il link in descrizione per quanto riguarda questa specifica release. Una volta qui andiamo su Download a disk image. Eccoci qua. Scegliamo 64 bit PC. Eccolo qua. E parte in Download. In questo modo scarichiamo un file immagine con tutto il sistema operativo. A questo punto mettiamo Ubuntu Studio dentro una penna USB tramite un software chiamato Rufus. Quindi prendiamo una penna USB da almeno 8 GB e la mettiamo nel PC. Andiamo nel sito di Rufus. Link lo mettiamo in descrizione. Eccolo qua. Come dice il sito, crea una unità USB avviabile in modo facile. E infatti è davvero facilissimo. Andiamo a scaricare il file di Rufus dal Download. Eccolo qua. E una volta scaricato lo lanciamo direttamente. Non c'è neanche bisogno di installarlo. Ok, questo è il nostro Rufus. Qui in alto su Device ci fa selezionare la nostra penna USB. Mi raccomando, attenzione, a selezionare quella giusta. Altrimenti verranno cancellati i dati su altri dispositivi USB che abbiamo collegato. Se ci stanno. Qui selezioniamo il file immagine del sistema operativo che andiamo a mettere. In questo caso io ho il mio archivio delle immagini e vado a scegliere Ubuntu Studio. Eccolo qua. 20.04.5 Che dovrebbe essere proprio la versione che avete appena scaricato. Tutti gli altri parametri li lasciamo a default. Quindi diciamo. Pronti? Start. Alcune raccomandazioni. Diamo l'ok. Attenzione che verranno distrutti tutti i dati. Quindi occhio alla scelta della penna USB. Andiamo. Ok. Sta iniziando a copiare il sistema operativo dall'immagine alla pennetta USB. Ok. Qui è tutto fatto. Quindi andiamo ad espellere la penna appena preparata. Vediamo una penna Ubuntu Studio penna F. Quindi prendiamo la penna e facciamo espelli. Eccoci qua. Bene. Con questa penna andiamo ad eseguire Ubuntu Studio. nell'altro computer. Per prima cosa dobbiamo fare il boot dalla pennetta USB. Ecco quindi che mi dà il menu. Gli dico SanDisk che è la mia pennetta USB. E andiamo. Ok. Sta facendo il boot. Questo è un computer che ha una certa età. Quindi vediamo le schermate un po' datate. Allora vediamo di mettere la modalità in italiano. se non altro per fare in modo che la tastiera abbia tutti i caratteri settati giusti. Prova Ubuntu Studio senza installarlo. Ok. Facciamo questa selezione visto che facciamo la modalità live. Ok. Io ho selezionato e adesso sta partendo l'installazione. se vedete che ci mette un po' non vi preoccupate il computer sta già lavorando. Bene. Sta andando. Ok. Sta caricando ed ora fa un check. Un controllo dei file. Controlla che tutti i file nella pennetta siano esatti. Può di seguito caricare il sistema. Anche qui il processo è un pochettino lento. Adesso andiamo avanti veloce. Il check è finito. Nessun errore. Quindi sta caricando. Ok. Sta partendo l'interfaccia grafica. Eccoci qua. Ora siamo nel nuovo sistema operativo appena caricato Ubuntu Studio. Vi ricordo ancora che questo è un sistema live. Quindi non abbiamo installato niente. Siamo partiti dalla pennetta e questo sistema è semplicemente caricato in RAM. Non sta utilizzando l'hard disk. Per prima cosa adesso facciamo partire il server audio. che è l'applicazione che si interfaccia direttamente con la scheda audio. Poi tutte le altre applicazioni si collegheranno al server audio. Appena lo vediamo sarà tutto più chiaro. Il server audio si chiama Jack Audio Connection Kit. Quindi andiamo nel menu e lo cerchiamo. Eccolo qua. In particolare l'applicazione QJack Control. Eccoci qua. Ok, vado a configurare Jack per lavorare con la mia scheda che come abbiamo detto è una M-Audio Audiofil 2496. Quindi andiamo su Impostazioni, Interfaccia, M-Audio Audiofil 2496. Imposto la frequenza di campionamento a 48 kHz e poi il buffer a 512 che mi dà una latenza di circa 20 millisecondi che per le mie funzioni di analizzatore di spettro va più che bene. Bene, faccio partire il server audio. Sta partendo. Ok, partito. Bene, il sistema è ora già configurato per far girare tutte le nostre applicazioni audio. Come abbiamo visto il sistema è addirittura live. Non abbiamo installato niente e scegliendo i componenti giusti non dobbiamo installare nessun driver perché viene tutto riconosciuto automaticamente da Linux. La mia scheda M-Audio ha anche un pannello di controllo software dove è importante fare alcune impostazioni. Anche questo componente è compreso nel sistema per cui dobbiamo solo avviarlo. Andiamo sempre nel menu e cerchiamo, in questo caso, Mood ITA. Eccolo qua. Bene, questo è proprio il pannello di controllo della mia M-Audio Audiofil 2496. La mia scheda riceve il flusso audio in digitale tramite connessione Speedif per cui è importante, anzi necessario, impostare il clock in Speedif. Andiamo su Hardware Settings e cambiamo il clock in Speedif In. Eccolo qua. Ok, in questo modo la mia scheda audio è sincronizzata a livello di clock con la scheda master del mio sistema. Se non fate un collegamento in digitale si può anche saltare questo passaggio. Ora andiamo a vedere se il segnale audio arriva correttamente alla scheda. Andiamo qua su Monitor Input. Ok. Dove abbiamo lo Speedif In Left and Right. Ora mando un segnale dall'altro computer e vediamo quello che arriva. Ok, perfetto. Il segnale sta arrivando ed è preciso. Ok. Bene, ora avviamo le applicazioni di misura. Queste applicazioni fanno parte del pacchetto X42 Plugins e sono già installate nel sistema. Anche queste. Per avviarle dobbiamo fare un po' alla vecchia maniera aprendo un terminale. Quindi andiamo sul menu e questa volta cerchiamo Terminale. Emulatore di Terminale. Perfetto. Digitiamo X42 trattino meter abbiamo appena avviato il loudness meter che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi prendiamo il nostro loudness meter lasciamo il terminale aperto ma lo miniaturizziamo anche la scheda. Ok, ora apriamo le connessioni su jack con connect, connetti. Qui troviamo gli ingressi della scheda audio che vengono esposti come system in particolare capture e li dobbiamo collegare con gli ingressi del loudness meter cioè gli input del EBU R128 meter. Eccoli qua. Ok, nello specifico gli ingressi speed if left and right della mia scheda sono il capture 9 e 10. Quindi andiamo a fare il 9 nel in L connetti e il 10 nel in R connetti. Perfetto. Così l'ingresso speed if della mia scheda è collegato direttamente con l'input del EBU R128 meter. Ovviamente a seconda della scheda che utilizzerete troverete gli input configurati in maniera diversa. Leggendo la documentazione della scheda e facendo un po' di esperimenti riusciremo a trovare quali sono gli ingressi che ci servono. Nelle schede più semplici solitamente abbiamo solo due ingressi un left and right molto semplice per cui non avremmo dubbi. Gli ingressi della scheda left and right andranno sugli input del EBU R128 in questo caso. Ok, ora andiamo in play con un segnale audio che proviene dal mio computer master e vediamo quello che ci dice. Eccoci qua. Ok, il segnale viene già analizzato correttamente e sta già funzionando tutto bene direi. Ok, ora possiamo fare la stessa operazione collegando gli altri componenti dell'analizzatore e arrangiando il tutto graficamente nello schermo. Continueremo a vedere gli altri componenti direttamente nel mio sistema dove ho già fatto alcuni cambiamenti grafici e qualche cablaggio interno. Tutto quello che andremo a vedere è comunque funzionante nel sistema live come abbiamo appena visto. Ora vado a riavviare la macchina col mio sistema. Ok, mi dice di rimuovere il dispositivo di installazione e premere invio. Togliamo la pennetta invio. Bene, oggi abbiamo fatto una panoramica sulla scelta dell'hardware. Abbiamo visto come avviare un computer con Ubuntu Studio e siamo già in grado di ricevere segnali dalla scheda audio, processarli e analizzarli. Nel prossimo video vedremo come configurare ed impostare tutti gli elementi del nostro sistema di metering e come avviare il tutto in maniera automatica. Quindi per oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Iscriviti al nostro canale